E niente io Mi sono assentato Un minuto e mezzo Ce la facevo più dove vieni al bagno Ragazzi il Belgio l'ha buttata dentro Io ormai ho detto Supplementari tranquilli perché comunque Non credo che all'ultimi secondi Arriva e qualcuno va a risolvere la partita Portiere del Giappone che prende Palla in... no si portiere del Giappone Portiere del Belgio, calcio tango del Giappone Che prende palla in mano Sentivo che dicevo è ultima occasione ed è finita la partita Ho detto sì vabbè supplementari Gol Belgio, 3 a 2 Partita bellissima, ciao Scusate eh, abbiate pazienza Perché è tornato il cesso cufo Ecco Aspettate che mi dino sui pantaloni che se vede tutto Cioè io Giudicate voi Non lo so se è un caso Se è il caso Pensavo segnasse Kagawa Mentre stavo sul cesso a fare i bisogni Invece così Così non è stato Appunto passa Passa il Belgio Ma ragazzi Onore al Giappone Stanno a piangere giustamente Perché Ci hanno creduto Erano passati in vantaggio De due reti Nonostante un primo tempo In cui Avevano sicuramente sofferto Il Belgio ha fatto la partita Ma il Giappone è stato bravo a chiudersi E Secondo tempo un po' particolare Perché comunque poi Vedi come te cambiano le partite in un attimo Due ripartenze Una Che ha cioccato un difensore del Belgio Non mi ricordo chi E ha dato la possibilità appunto A un giocatore del Giappone Di segnare E poi arriva il 2-0 Con un bel tiro da fuori Ha segnato Tom Becker E Julian Ross Se non me sbaglio So scherzare ovviamente Non mi ricordo Se era Oliver Atto Vabbè E il Belgio è stato bravo Ragazzi Qualsiasi altra squadra Comunque il tempo stava scorrendo Se è in svantaggio De due reti Magari sono stati pure fortunati Perché hanno segnato Con colpo di testa De Vertonghe Nel 2-1 E là ha sbagliato Benji La Benji ha fatto una paperata Perché è uscito un po' a voto E poi comunque Era posizionato male Sul colpo di testa Hanno riaperto la partita Poi è arrivato Ah no Sul 2-0 C'è stato anche il palo De Hazard Scusate Che mi ero dimenticato E poi vabbè È arrivato anche il pareggio È arrivato il 2-2 Ma lo ripeto Io ho detto C'è Non comincio manco a registrare Perché tanto Era finita Cioè Proprio nel momento in cui Courtois ha preso la palla Dico vabbè Cesso Cagatina tattica Faccio un tempo Non l'ho fatto un tempo Perché Vabbè Il cesso è tornato a gufare Che ne pensate voi Che cosa ne pensate Secondo voi Alla fine dei fatti È giusto che Che sia passato il Belgio O il Giappone Meritava qualcosina in più Io vi dico che Qualora la fossero L'avessero portata Ai supplementari Sicuramente il Belgio Qualcosa in più l'ha fatta Ma non avrebbe comunque Rubato nulla Al Giappone A giocassera proprio Nei tempi supplementari Mi sarebbe piaciuto Rivedere i calci di rigore Perché avrei voluto Cufare da lì Quindi va bene Detto questo Fatemi sapere voi Il vostro parere Che cosa ne pensate Commentate Il Brasile quindi Affronterà il Belgio Condividete il video Iscrivetevi al mio canale Se ancora non lo avete fatto Mi piglio l'occhiali Me ne vado di là Perché Ah no Devo finire di andare al bagno Perché Sento qualcosina ancora Stasera ho mangiato pesante Vi chiedo scusa Ma Certe volte capita anche a me Anche io sono un essere umano E anche io vado a cagare Va bene Ciao